10 cose che ogni bambino con autismo vorrebbe che tu sapessi Io sono un bambino Chi mi eserci Chi mi eserci tanto si proibono Distinto Gli stessi mi faccio che non voglio fare da molto male Sono un vendatore completo Sono un vendatore completo Invece per i quadri italianelli Attenzione a tutti i marchi in un bel periodo di domenica Fammi vedere il nuovo vendere Fammi vedere il nuovo vendere Comisivo Contenete la vera friccia che posso fare Anziché fricciate con vostri amici Aiutami nel liberazione Aiutami nel liberazione Identifica cos'è l'esca e l'esca Amami incondizionatamente Aiutami nelle interazioni sociali Amami incondizionatamente Grazie a tutti i nostri amici